Questi qua, dirottami di qua! Traffico intenso e viabilità rallentata nell'ultimo weekend nella riviera del Corallo. Un incidente in via Lido all'altezza di San Giovanni ha coinvolto un'auto e due ciclomotori. Una Mercedes che si dirigeva verso il centro ha svoltato improvvisamente andando a scontrarsi contro le due moto che provenivano da via Garibaldi. Nessuna conseguenza fisica per il conducente della vettura, escoriazioni e contusioni per gli occupanti delle due moto, una coppia e un giovane, tutti algheresi. Sul posto sono intervenute due macchine del 118 che hanno condotto i feriti al pronto soccorso e i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi e sovraordinato alla regolare viabilità.